buongiorno buongiorno ragazzi benvenuti alla lezione di italiano a 1 a distanza oggi vediamo l'elisione torniamo un attimo in città l'abbiamo vista nel video precedente la nostra città è bella tanti colori ci sono tante attività abbiamo viste l'altro giorno l'altro video tutte il cinema ristorante la chiesa il comune il fruttivendolo la banca il negozio di abbigliamento dove compri vestiti nuovi la cartoleria dove compro il quaderno le penne la libreria la casa il medico il bar la pizzeria la vineria la farmacia la moschea e l'ospedale l'apostrofo ospedale manca qualcosa però nella nostra città qualcosa attenzione vuol dire una cosa in particolare cosa manca manca vuol dire essere assente che non si trova dove la scuola ecco cosa manca manca la scuola però un attimo dove è un altro un'altra elisione cioè dove significa dove è ma in italiano quando ci sono due vocali vicine e parti in particolare quando una è alla fine della parola come dove che finisce con la e è un'altra vocale con cui inizia la prova la parola seguente dove e e e si cancella la e della parola è finale la vocale finale della lettera dove e si mette l'apostrofo ecco questa è l'elisione ma anche l'elisione vedete l apostrofo elisione perché elisione femminile e sarebbe la elisione e diventa l'elisione quindi l'elisione togliere la vocale alla fine di una parola e aggiungere l'apostrofo al suo posto dell'ultima vocale e anche l'apostrofo vedete l'apostrofo l'apostrofo la elisione è femminile l'apostrofo è maschile in entrambi i casi si scrive l'apostrofo andiamo avanti allora dov'è la scuola perché non l'abbiamo ancora trovata allora significa vuol dire in conclusione questo significa in conclusione dov'è la nostra scuola che non l'abbiamo ancora trovata eccola la nostra scuola allora la nostra scuola c'è c'è è di nuovo un'altra elisione che significa ci è dire c'è è uguale a dire ci è solo che ci è non si può dire in italiano perché ci sono le due vocali quindi in italiano si dice c'è che un'altra elisione oh mamma mia quante un'altra è ancora un'elisione e significa dire un'altra è uguale a una altra ma non si può dire in questo caso l'articolo è indeterminativo fate attenzione nel caso del maschile un altro non si mette l'apostrofo proprio perché l'articolo è un una ok quindi un altro senza apostrofo un'altra con l'apostrofo sempre al femminile in questo caso con l'articolo determinativo allora quante cose abbiamo imparato oggi abbiamo visto l'elisione cioè quando ci sono due vocali vicine e in particolare una alla fine di una parola si toglie la vocale alla fine di quella parola e si aggiunge l'apostrofo e allora vediamo i casi di oggi dove è in italiano non si fa e si scrive dove è la elisione articolo singolare femminile la elisione inizia con la e quindi non si può dire la elisione in italiano e si mette l'apostrofo l'elisione l'apostrofo l'articolo maschile l'apostrofo l'apostrofo un'altra diventa un'altra una altra non si può dire perché ci sono le due a un'altra e ci è diventa c'è fate attenzione che un'altra un altro un altro e senza e senza l'apostrofo ok vi lascio qua sotto nella descrizione dei link l'autovalutazione come sempre compilatela rimandatemela e mettete like per prendere le presenze che l'avete visto buona giornata a tutti e speriamo di tornare presto a scuola buona giornata